Non ci sono nuovi casi di contagio da Covid-19 su 835 tamponi processati e non si registrano nuovi decessi per coronavirus in Abruzzo rispetto alla giornata di ieri. Così nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.279 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'istituto zoo profilattico di Teramo, dall'università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. 71 pazienti, invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3, meno 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 412, meno 24 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 456 pazienti deceduti, dato appunto invariato rispetto a ieri. 2.337 dimessi guariti, più 25 rispetto a ieri, di cui 120 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.217 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 486 con una diminuzione di 25 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 91.700 test, di cui 86.092 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 828 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1.539 alla ASL di Pescara e 665 alla ASL di Teramo. Grazie a tutti.